Beh, sicuramente un fatto molto grave, però dalle prime emergenze investigative un fatto che sembra essere attribuito ad una sola persona, quindi un gesto isolato. Ovviamente esiste purtroppo un contesto della provincia di Foggia, non solo del comune di Sansevero, molto critico. Io in diverse circostanze ho detto che quella provincia, al pari di Caserta, al pari di altre realtà, ha degli organici sottostimati, ma anche lì stiamo lavorando per adeguarli e adeguarli in un contesto nel quale gli organici sono quelli che sono. Quindi per dire che la situazione è assolutamente seguita, il ministro su questa particolare vicenda presta un'attenzione particolare, ha incontrato il sindaco di Sansevero a significare che lo Stato c'è. Ovviamente per quelle che sono le risorse abbiamo mandato dei rinforzi, però è un contesto di criticità più ampio che riguarda tutta la provincia di Foggia.